Musica Abbiamo parlato e parleremo ancora in questo numero di cannaveis anche di luoghi del cannavese, luoghi che a volte sono un po' dimenticati e dei quali non conosciamo la storia, ma dietro i luoghi a volte ci sono tradizioni e a volte ci sono superstizioni, come per il santuario di Sant'Ignazio nelle Valle di Lanzo, vero? Senz'altro, diciamo che questo santuario non può sfuggire a chi salga verso le Valle di Lanzo perché veramente costituisce una evidenza bianchissima sull'alto del Monte Bastia e che funge quasi da baluardo all'ingresso nelle valli. È un santuario settecentesco, il quale però fu preceduto già sin dal 1629 da una cappella dedicata al Santo Spagnolo, eretta appena sette anni dopo la sua canonizzazione. E quindi già è strano il fatto che a pochi anni dalla canonizzazione di Ignazio, questo santo gesuita, erudito, soldato, in una remota valle del Piemonte nasca un culto così diffuso. Ci siamo chiesti il perché di questo. Di risposte sicure non ce ne sono tante, gli studi che si sono svolti sono molto importanti, studi di tipo architettonico, di tipo teologico, storico, però dal punto di vista, diciamo, folcloristico, delle credenze, delle tradizioni non c'è tanto. Possiamo dire innanzitutto che il culto si diffuse tantissimo per via di una invasione di lupi che ebbe luogo in quell'epoca e che veramente nel territorio distrusse sia gli armenti che i giovani pastori che erano addetti alla loro sorveglianza. Sant'Ignazio è riputato in tutta Europa quale protettore contro i lupi per via del suo cognome, López, che in spagnolo significa lupo. Quindi è una cosa abbastanza normale, non ha niente di interessante oltre la diffusione del culto. Più interessante è il fatto che nelle valli di Lanzo questo santo non venne venerato solamente come protettore contro i lupi, ma ebbe diverse altre caratteristiche che sono tipiche solo di questa zona. In nessun'altra parte del mondo viene venerato per questi motivi. Primo fra tutti la protezione dei neonati, una cosa stranissima perché in genere la protezione dei neonati viene sempre affidata al femminile, quindi alla Madonna o a certe sante, Sant'Anna, Sant'Agata, Santa Libera. Mentre invece nelle valli di Lanzo non solo Sant'Ignazio proteggeva e continua a proteggere perché dal 1996 è ripresa questa tradizione, i neonati, ma addirittura gli venivano offerti. Quindi abbiamo delle testimonianze in quadri, ex voto, litografie settecentesche, in cui si vede la processione delle madri con le piccole culle in legno che venivano usate un tempo nelle campagne, le quali offrono al santo i loro figli, soprattutto il primo genito, se maschio, e oltretutto a questi verrà imposto il nome di Ignazio. Infatti fino a metà anni 50 del Novecento le valli di Lanzo erano popolate di Ignasi e Ignasinu che portavano il nome del santo spagnolo. Questa cultualità è molto particolare e potrebbe indurre a pensare, qui naturalmente siamo sempre nel campo delle ipotesi, di certo non c'è nulla, che il monte su cui sorge il santuario di Sant'Ignazio fosse già in precedenza dedicato a qualche divinità, evidentemente pre-cristiana, alla quale fossero dedicati i figli, soprattutto i maschi. Bisogna pensare che questo monte, si chiama Monte della Bastia o del Castellazzo, quindi evidentemente fu sede di una cittadella fortificata, una piccola cittadella fortificata all'imbocco delle valli e su cui doveva chiaramente esistere anche un certo tipo di culto, non sappiamo a chi e come si svolgesse. Questa cosa è sicuramente provata dal fatto che quando un giovane architetto, un giovane Bernardo Vittone, proprio agli inizi della sua carriera d'architetto, costruì il santuario, pose come fulcro dell'edificio la cima del monte. Infatti adesso purtroppo è stata arretrata tutto questo monumento dopo il Concilio Vaticano II con la riforma liturgica, ma antecedentemente la cima del monte era veramente al centro del grande bacino della chiesa e ad essa erano addossati due altari e al di sopra di questa roccia vi è un grande monumento lineo in cui compare Sant'Ignazio con un altro gesuita, alcuni angeli, ricordando l'apparizione del santo sulla cima del monte. Apparizione che durò per ben tre ore e quindi fu vista da molte persone di cui abbiamo la testimonianza di questa apparizione. Il culto si diffuse immediatamente, gente, pellegrinaggi e beroluogo dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Piemonte, con un grandissimo afflusso di danaro anche perché naturalmente voti, offerte e a un certo punto la popolazione della zona non si sentì più in grado di gestire tutto questo commercio, possiamo dire, e decise di smettere la cappella e la montagna alla compagnia dei gesuiti di Torino. Questi naturalmente vollero la remissione di tutta la montagna con tutti i boschi fin dove si estendevano i boschi di Rovere, cosa che venne concessa però, e qui vi è un'altra particolarità che dà un po' a pensare, fu nell'atto di cessione, fu immessa una norma la quale diceva che mai e poi mai l'accetta avrebbe potuto abbattere anche un solo albero di questi boschi, cosa che nuovamente fa pensare a una precedente cultualità in cui oltre alla roccia vi fosse una forma di culto rivolto al bosco sacro, come per esempio, stessa cosa è avvenuta un po' più a monte, a forno al Pigraie, nel santuario della Madonna Nera. Ci chiediamo, non possiamo sapere a chi fossero questi dei, questi numi, abbiamo dei piccoli indizi. Sta di fatto che Sant'Ignazio ebbe anche altre prerogative che probabilmente erano già di numi precedenti, quale ad esempio la protezione del bestiame, perché guarì una epidemia di zoonosi nei reti in Piemontese e per cui gli rimase questo. Per esempio era invocato per proteggere i bambini dalle masche, dai sortilegi delle masche, prerogative stranissime per un santo così, della controriforma così severo e così serio come fu Sant'Ignazio. E infine ancora una nota veramente strana legata a questo santuario che veramente siamo nella blasfemia più completa, perché c'è una leggenda la quale racconta che la Madonna aveva tre figli ed erano San Vittore, Santa Cristina e Sant'Ignazio. Quindi qui siamo proprio nell'eresia. E questi tre figli erano terribilmente monelli, litigavano sempre fra di loro. A un certo punto la dolce madre di Dio, pur nella sua dolcezza, dovente prendere una decisione un po' drastica e decise di separarli su tre monti diversi, di modo che si vedessero sempre tra di loro, ma non avessero più contatti emotivi di litigio. E per cui ecco che San Vittore ebbe il suo santuario sul monte sopra Balangero, Santa Cristina ebbe il suo santuario sui monti fra Cantò e Re Ceres e Sant'Ignazio sul monte della Bastia del Castellazzo. storia che non avrebbe alcun senso, che va contro i dettami. Pensiamo che qui siamo nel periodo della controriforma, quindi in un momento in cui non si sgarrava più. Rigido. Rigido al massimo, nasce questa leggenda. Sono tre monti che effettivamente si guardano, una triangolazione molto particolare che può dare da pensare, potrebbe suggerire altri studi molto importanti sulla storia più antica delle valli. Diciamo che questo è un buon sasso gettato nello stadio, possiamo dire così, perché un monte che qualcosa di magico ce l'aveva, perché i boschi, sappiamo che i boschi protetti sono boschi magici, hanno una buona dose di magia. un precedente probabilmente nome, protettore, che magari era anche dei boschi. Il fatto che su questo, in piena abbiamo detto controriforma, si innesti poi un santo del periodo, proprio rigoroso, e si innesti come protettore dei bambini e degli animali che venivano una volta mangiati dai lupi. Quindi ci sta questo, quello che non ci sta e su quale bisognerebbe lavorare è questa triangolazione, perché il monte a questo punto non è uno solo, i monti sono tre che si guardano e da qualche parte questa tradizione arriva. Vedremo di capire, magari nei prossimi numeri di Caramay. Penso sia difficile, però... No, 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 no.